Ci troviamo all'interno dell'aula consigliare del comune di Arena, siamo nel Vibonese, qui è in corso la protesta di una cinquantina di ex LSU LPU calabresi, ai quali ancora non è stato fatto il contratto di stabilizzazione. Speravamo di poter continuare, invece ci hanno detto tornerete nel bacino i sindaci, siamo andati alla regione, no è un problema dei sindaci perché la regione non c'entra più, andate dai sindaci, perciò i sindaci andati dalla regione, la regione dei sindaci noi siamo senza nessun tipo di rapporto di lavoro. Se il 90% ha firmato questa contrattualizzazione, quindi questi sono assunti la responsabilità, perché il 10% adesso si ritira dicendo che non mi assumo la responsabilità? Ho iniziato il lavoro nel marzo del 1997, sono tre anni che sono stabilizzate, adesso mi trovo anch'io in mezzo alla strada. Noi invitiamo i sindaci ad avere una certa sensibilità nei nostri confronti, perché non è giusto che noi da parecchi anni che stiamo lavorando per gli enti ci lasciano per strada. Dopo 20 anni il sottoscritto che ne ha 47 non può andare a casa, assolutamente non può andare a casa, questo è impossibile. Oliviero, meno male che ci ha detto che non ci lasceremo soli e torneremo nuovamente a fare qualcosa per noi, e questo stiamo aspettando. La nostra speranza è solo questo, perché dalla sera alla mattina non ti puoi ritrovare a casa in suo lavoro, abbiamo figli a casa, ed è duro dopo 20 anni stare in mezzo a una strada. Siamo veramente disperati. Cristina Iannuzzi per la CNews24